Gerba Valls ci presenta la morte del ciglio dal carnevale degli animali. Grazie a tutti. 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 Ho visto che però probabilmente tornerai anche in Cina. Probabilmente sì, tornerò, ma prima farò un'esperienza del Bolshoi di Mosca. Quindi vediamo. Quindi prossimo invenio è il Bolshoi di Mosca e poi chissà magari di nuovo la Cina o qualcosa di altra anche da Cina. Complimenti perché è davvero giovanissima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.